Siamo qui con Davide Pasti, dici cosa ne pensi della partita di oggi? La partita è stata oggi una vittoria importante per la squadra, da morale, fiducia in vista delle prossime partite, ora ci prepariamo al massimo per la Coppa. Sul gol cosa puoi dirci? Sul gol... Che è fortissimo può dirci, cosa ci può dire? Puoi dire che ho calciato bene la punizione, il portiere mi ha messo benissimo la barriera e ho sfruttato al massimo questa occasione. È andata bene, sono contento soprattutto per la squadra e per questi tre punti importantissimi. Bene, alla prossima. Grazie.